Bisognava vincerla questa partita, l'abbiamo vinta, la si è vinta grazie veramente alla squadra. Oggi hai fatto del turnover, l'avevi anticipato e mi sembra che quei ragazzi che hai messo in campo abbiano dato veramente tutto quello che ti aspettavi di vedere da loro. Meritano una sottolineatura in più? Sì, soprattutto perché poi hanno fatto le cose per bene, nel senso che si sono impegnati per dare equilibrio alla squadra, per rimanere in campo fino al dovantesimo. Io, perché poi la formazione la cerco io, ho un po' rischiato mettendo tutti questi ragazzi dal primo minuto che non avevano giocato, che non avevano molto minutaggio. Però poi loro hanno fatto vedere che ci si può fidare, che si può fare anche delle scelte adottate. Il 2-0 racconta bene quello che è stato alla gara, forse il minutaggio del secondo gol te lo aspettavi un pochettino prima. È servito quel gol annullato per far ripartire la squadra? Forse lì hanno capito, forse rischiamo, andiamo a chiuderla. Un po' anche nel primo tempo questo fatto della gestione della partita, la gestione di alcuni momenti, andrebbe fatta un pochettino meglio. Però poi ci ha pensato la difesa a pulire quando abbiamo perso palla, hanno fatto veramente bene. Dalbert ha fatto una grandissima partita, Miranda, De Vrij, D'Ambrosio ha spinto, è stato meno lucido perché ha spinto moltissimo. C'era solo da riuscire a fare un po' di possesso palla migliore. Alberto? Buonasera mister, ne ha cambiato i sei rispetto alla partita di mercoledì e da tutti ha avuto anche questa sera risposte importanti. La seconda domanda è su Dalbert, che ha usato parole importanti nei suoi confronti e soprattutto ha spiegato una volta di più che poi lui per primo magari non era contento di quello che era il suo rendimento questa sera. Quanto le fa piacere vedere la crescita di questo ragazzo che lui per primo ha messo, insomma adesso si sente anche più leggero? Di questo non è che poi ne rimanga entusiasta della sua crescita. Quello che diventa fondamentale è che il pubblico abbia capito che è un giocatore che ha potenzialità. Stasera il lasciarlo tranquillo qualche volta di andare a fare la sua giocata gli ha permesso di fare delle scelte giuste. Proprio perché è un ragazzino giovane. Se voi domandate anche ai magazzinieri della Pinetina, del Centro Suning, perché da qui in avanti lo voglio chiamare Centro Suning, se voi domandate a tutti quelli che lavorano lì dentro vedrete che vi risponderanno tutti allo stesso modo. che lui ha questa grande corsa, questo grandissimo piede, lui ha un tiro veramente importante alla Roberto Carlos. Io ci rivedo tale e quale... Poi è chiaro che la qualità deve affinarla, deve riuscire ad essere tranquillo per avere una qualità importante, deve riuscire ad avere confidenza con il calcio giocato e soprattutto con la scala del calcio che è San Siro. Però il fatto che stasera l'abbiano applaudito e che abbiano apprezzato poi anche il cross che ha fatto per la testa di Lautaro è la soluzione per tutto. Ilaria? Buonasera mister, lei ha parlato dei singoli insomma, le abbiamo chiesto di Dalbert, io continuo chiedendole di Nainggolan perché ieri ha parlato di lui in conferenza stampa, ha detto io gli do un 6, è la sufficienza appena perché so che può fare meglio, può fare strappi importanti ogni 2-3 minuti. Bene, analizzando la partita di oggi che voto da Aragia. Ci si aggiunge un meno, 6 meno. Perché? Perché via di voto io gli do quello che mi pare, se meno, perché è uno che può fare molto di più e è uno che può dare più una mano alla squadra, anche lui ha perso dei palloni, che è un calciatore della sua esperienza, il livello suo e quelli veramente di giocare poi dentro il rischio, il pericolo, il settore di campo angusto dove non si trovano spazi e lui con la sua forza fisica, con il suo baricentro basso riesce sempre a portare via tutto da lì, sia quando deve riconquistare che quando deve poi impostare. Chiaro che ha fatto una buona partita, però io lo conosco bene, voi ancora non lo conoscete. Un'ultima da qua perché mi starà un appello da fare prima di andare in conferenza. Sì, quello che hanno fatto tutti i calciatori dentro lo spogliatoio prima di uscire, se ne facciamo più di uno è ancora meglio, uno assolutamente tutti, un sms al 45514, così aiuteremo la Lega del Filodoro e riusciremo a comprare un centro di riabilitazione per i bambini sordocechi, 45514. Sono convinto che la sensibilità degli interisti sarà presente.